Bentrovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762. Martedì 8 luglio. Ariete, giornata strana per tipi dinamici come voi, tutta incentrata sull'autoanalisi interiore. Una pausa di riflessione non può farvi che bene. Non sottovalutate le esperienze già fatte e procedete senza cedimenti. Mieterete consensi. Toro, umore e umbroso con la luna in opposizione. A tirarvi sul morale, famiglia e amicizie, che addolciscono la pillola ma non vi nascondono la verità. Maretta in coppia, ma è pura gelosia. Insieme da poco vi tocca dividere il partner con parenti e colleghi. Gemelli, la giornata è produttiva. Obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio le idee. Troppe varianti vi confondono. La fase non sarà esaltante, ma avete delle carte da giocare. Ci sono in atto cambiamenti importanti. Cancro, cielo popoloso. La tensione nervosa c'è, ma la padroneggiade con il self-control e con la pazienza. Con il tempo, lo sapete, tutto sia giusta. Le circostanze vi remano contro. Avete sufficiente saggezza per non farne un dramma e non gettare la spugna. Leone, la luna in aspetto dissonante tira fuori i vostri lati più oscuri. Conoscere il lato ombra può procurare sgomento, ma è utile per il futuro. Ci sono giornate come queste in cui non si riesce a vedere la luce, ma sapete bene che domani è un altro giorno. Vergine, la luna nello scorpione rafforza le vostre qualità. Tenacia, serietà e senso critico. Per spicacia e ragione lavorano in team. La creatività fa faville. Non sottovalutate idee e intuizioni che potrebbero sorprendervi proprio quando meno ve lo aspettate. Bilancia e gli impegni si accavallano, ma oggi tutto scorre in armonia, con una chance fortunata per un'attività o un progetto che promettono soddisfazioni. Sfoderate la grinta se avete delle ambizioni da soddisfare e soprattutto se ci tenete al posto di lavoro. Scorpione, sul lavoro siete a cavallo, tanto da trovare l'appoggio giusto per le vostre imprese. In amore qualcosa vi inquieta? Provate a parlarne nell'alcova. Carte e documenti importanti si volatilizzano e una serie di imprevisti vi fanno perdere tempo. Sagittario, la vostra anima così solaria appare un po' messa in gabbia dalle circostanze, ma può essere un buon momento per attuare grandi cambiamenti. Probabile un inatteso e sgravio degli impegni per cui avrete del tempo a vostra completa disposizione. Capricorno, intuizione e logica vanno di pari passo. Scoprite ragioni finora incomprensibili, chiarite i dubbi e trovate soluzioni ai farbletti. Siete nella condizione ideale per affrontare un esame, un colloquio o per proporvi per un incarico di rilievo. Acquario, il tempo vi tiene sotto assedio, ma voi che ne sapete una più del diavolo, riuscirete a ingannarlo. Marte continua a regalarvi una marcia in più. Progettualità intensa, ma per realizzare quello che avete in mente ce ne vuole, fatevene una ragione. Pesci, al lavoro tenete gli occhi bene e aperti per non incappare in qualche gaffo imprevisto. Con mercurio stile meglio non distrarsi. Lasciate stare sogni e castellinaria. Oggi è molto meglio tenere i piedi ben piantati a terra. Grazie a tutti.